e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video questo cioè durerà tipo un minuto e mezzo si ho il baulè super magico ok è di arena 6 in teoria perchè ero sceso per far corone questo era il mio deck solo per scendere e far tante corone ok ora apriamolo ecco non male si beh dai se troviamo la leggendaria non avevo la veleno eh sono epiche queste che balle beh beh pensavo di meglio fatemi vedere una roba costa 4 vabbè ragazzi per questo video è tutto pensavo di trovare qualcosa di meglio ma vabbè dai e ciao a tutti grazie a tutti